Quattro locuzioni latine che alcuni sbagliano a usare. Partiamo. Eccola prima. Non si dice di sua sponte, per dire volontariamente, spontaneamente, di sua volontà, ma bisogna dire sua sponte. La preposizione di non ci va. Lo so, siete scioccati, ma è così. Due. La locuzione unatantum, grande classicone, significa per una volta soltanto e non una volta ogni tanto o una volta ogni tantum. Tre. Out, out, si scrive come si pronuncia e non out, out, non è inglese. E questa locuzione latina significa o, o e si usa per obbligare qualcuno a prendere una decisione. O questo, o quello. O te mangi sta minestra, o te butti da finestra, come diceva nonna. Quarta e ultima. Si dice mutatis mutandis. E non mutandis mutandis. Chiaro, no?